I mercatini di Natale è un'attrattiva bellissima per la città e per i negozi di Siena perché gira tantissime persone che vengono da fuori regione in occasione dei mercatini di Natale. Due giorni sono troppo pochi, dovrebbe essere da parte dell'amministrazione comunale, degli enti della confesercente e confecommercio portare anche i mercatini tirolesi per far viva la città nei periodi più morti. In questo periodo ce l'hanno tutte le città, in una bellissima piazza del campo di Siena ci starebbero bene dal 20 di novembre al 7 di gennaio come da tutte le altre città. Cosa ne pensa dei mercatini di Natale che si sono da poco conclusi in piazza del campo? Allora, secondo me è un'esperienza che porta in piazza del campo, nella città, molto turismo. Non so per quanto riguarda i negozi quanto afflusso ci possa essere nel momento in cui c'è questi mercatini più giorni in piazza del campo. L'afflusso sarebbe tanto, in giro per la città, soprattutto vicino a questi mercatini, per i negozi è un punto interrogativo. Potrebbe essere favorevole come sfavorevole perché uno magari compra in piazza del campo. Quanto dovrebbero durare i mercatini di Natale in piazza del campo? Allora, il mercatino di Natale è un'idea geniale che richiama sempre tanta gente. L'unica pecca è che viene fatto solo per due giorni quando ci sarebbe bisogno di richiamare gente a Siena più spesso.